Sia lodato Gesù Cristo, carissimi così sempre vi chiamo, carissimi nel mio cuore, tutti voi che siete telespettatori, quelli che siete uniti con me aspettando una settimana per i nostri incontri, per le nostre catechesi e come vedete questa veramente suggestiva panorama mi trovo in questo momento in Toscana, come potevate vedere anche sul nostro portale da stamattina il mio oggi incontro nella chiesa di San Domenico a Siena perché ho voluto proprio fare questo viaggio, viaggio sulle orme di Santa Catarina di Siena, ho voluto proprio andare vicino, pregare vicino la sua tomba perché è una santa, grande patrone dell'Europa, abbiamo diversi patroni ma io posso dire in qualche modo questo viaggio l'ha fatto anche con me San Giovanni Paolo II e San Charbel Maclouf come voi vedete la nostra immagine del santo San Charbel della nostra oggi catechesi che lo vediamo mezzo diciamo questi rami delle olive è bellissimo perché San Charbel durante la sua vita proprio Annaia raccoglieva le olive e proprio forse anche per questo penso ci ha lasciato questo grande segno dal suo corpo che nessuno così tanto quel liquido che somiglia un po' anche l'olio ci ha lasciato tanti litri che oggi noi ricordiamo sempre di questi anni di questo grande segno di Dio possiamo dire che il santo ci ha lasciato perché chi ha portato proprio questo liquido, questo olio ai malati riceveva la grazia di essere guarito come anche oggi quando si benedice l'olio proprio vicino alla sua tomba sulla sua tomba direi Annaia e poi quell'olio si porta a tutto il mondo e quanti la ricevono ricevono durante le celebrazioni ma questo e posso subito anche dire non è diciamo il sacramento per i malati unzione per i malati questo olio che tante volte anche io benedico nelle chiese perché forse qualcuno diceva e questo comincia a dare diciamo un momento, una immagine come se fosse una celebrazione come se fosse una celebrazione del sacramento dei malati ma non è così, questo olio portato dal Libano che si usa durante le celebrazioni, tante volte le preghiere dedicati a San Charbel per la sua intercessione questo olio è solo un segno, un segno, l'olio che veniva in quel momento ma oltre il segno è sempre, sempre siamo ancora di più legati con il nostro santo. Allora cari fratelli e sorelle vi saluto da Toscania dove mi trovo da ieri pomeriggio, vi saluto da questa bellissima panorama, le olive, le diciamo tanti belli prati di verdi, mi sembra come se fosse essere un po' anche a Annaia dove è nato di San Charbel perché è molto somiglia questo panorama di quei luoghi dove è visuto il nostro caro santo San Charbel e noi veramente oggi siamo uniti insieme in questo anno specialmente l'anno di misericordia a pregare lui per quello come sempre saluto tutti voi, tutti che siete uniti con me nelle vostre case di preghiera di San Charbel tutti quanti che in qualche modo cominciate a vivere veramente molto interioramente con San Charbel interioramente direi che siete pronti lasciare tutto per Gesù io penso che questo è il suo grande messaggio l'uomo deve essere pronto quotidianamente a lasciare tutto per Cristo non allegarsi alle cose quelli terrestri, quello che abbiamo perché tanti sono proprio allegati alle cose, alle persone, ai figli, ai genitori ma no, questo è dono per noi, tutto quello ma non appartiene a noi, noi l'abbiamo ricevuto come un dono da Dio e per questo siamo pronti ogni giorno a lasciare perché tutto è suo, siamo nelle mani di Cristo cari fratelli e sorelle allora in questa settimana veramente l'abbiamo avuto modo anche di nuovo lodare la croce del nostro Signore Gesù Cristo e la croce proprio quella festa dedicata a esaltazione della Santa Croce del Signore quanto in questa settimana 14 settembre l'abbiamo celebrato ma come se forse subito ha preceduto quella festa, celebrazione 13 ottobre che il nostro sguardo era verso Fatima, verso quel luogo dove era quella apparizione della nostra madre che proprio si stiamo preparando per certinario della sua apparizione che lei ci è venuta come se forse viene sempre sotto la croce ma oggi in questa nostra catechesi prima che inizio seconda parte direi dell'occulto, della presenza di Satana delle sue insidie, del suo attacco, io voglio dirvi veramente che con me lo porto sempre quella croce quanti di voi ce l'avete? Quella croce proprio di San Benedetto posso avvicinarvi ma tante volte cari fratelli e sorelle tante volte io ho visto quanta potenza viene dalla croce del Signore quante volte ho visto e qui un po' affaticato dietro guardate qualche volta durante la mia celebrazione quando ho preseduto le celebrazioni di guarigione, di liberazione ma soprattutto quante volte io alzavo questa croce davanti le persone possedute, davanti le persone che hanno difficoltà, che sono in qualche modo io ho visto sotto delle forze maligne dell'occulto ma l'ho visto con i miei occhi quanta potenza viene dalla croce perché dalla croce viene per noi un messaggio sempre un messaggio cari fratelli e sorelle io ho vinto la morte, ho vinto il male io ho vinto tutto questo dice il Signore per amarti, per darti il segno più grande del mio amore e questo è quella croce dobbiamo adorare infatti vi raccomando cercate anche voi nelle vostre case, nei vostri luoghi dove vivete se avete la croce, se avete questo segno cristiano, questo segno, quella forza non voglio niente avere nelle mie mani, nel momento della mia morte solo la croce perché qui dalla croce è inizio e dalla croce finisco la vita per la prima volta del battesimo, poi alla fine della mia vita di ciascuno ci sarà la croce alla fine della vita ma poi se qualcuno ci lo fa rimanerà la croce sulle nostre tombe la croce, la croce segno del amore, segno veramente di donazione totale a noi per questo San Charbel quando riflettuto la croce diceva io sono con te Gesù sulla croce per questo forse San Giovanni Paolo II voleva avere la croce nelle mani a ultimi passi della sua vita questo è un messaggio forte, la croce tante volte che è la croce abbandonata, qualche volta anche spezzata nelle diversi luoghi sette sataniche come voi sapete tante volte spezzano la croce profanazione della croce, profanazione di Gesù ho visto qualche volta quanto anche quel segno qui di San Benedetto mi attirava una forza invisibile che staccava ormai e tante volte anche staccando voleva staccare Gesù mi ricordo quando qualche sacerdote amico mi ha legato molto con i chiodi della propria figura di Cristo ha legato ma io penso e questo è il messaggio della croce più grande per noi indietro della croce è posto per noi per questo vi raccomando non siate tristi quando vi portano sulla croce quando vi perseguiranno, perseguiteranno, quando vi abbandoneranno, quando cominceranno sempre a parlare male sempre male su di te perché tante volte loro inventano le cose chi inventa il demonio inventa le cose per crocifissarti e veramente quel crocifisso è portato nel cuore tante volte l'abbiamo visto della sua passione, del suo dolore di Santo Padre Pio io penso che lo ricordo quante volte io penso quando lui non poteva celebrare le sante messe io penso che sempre adorava il cuore adorava la croce dicendo io ti offro Gesù quella mia sofferenza quel dolore nel mio cuore ma quella croce che che è abbandonata tante volte abbandonata e io dico portatela con una gioia con amore perché dà fastidio anche Satana il segno della croce molto dà fastidio e io una volta stavo celebrando le messe a Napoli perché vogliono disprezzare tanti nemici della chiesa la croce ho celebrato la santa messa a Napoli e poi un giorno stavo camminando nel centro della città sappiamo oggi sviluppo delle sette a un certo momento ho visto che qualcuno stava vendendo diverse cose ma ho visto i croci che stava vendendo i croci che mi vedevo che erano molto strani e la croce molto particolare poi ho preso in mano e ho capito che questo è un accentino per accendere forse la sigaretta chissà le candele ma guardate cari fratelli e sorelle quanto l'hanno combinato qui si vede qui e qui si faceva proprio di accendere certamente non c'è gas dentro ma si accendeva io lo comprai quella croce dicendo a quel giovane ragazzo caro mio non la devi vendere una cosa direi che disprezza l'immagine della nostra salvezza ma lo comprai questa croce ma tante volte ho predicato avendo proprio sul collo di quella croce ma quante volte l'abbiamo durante riti spirituali l'abbiamo chiesto il perdono per queste profanazioni baciando la croce quella anche sì dobbiamo sempre sempre a chiedere il Signore che ci aiuti che ci dona veramente la forza di 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 forza di capire cosa stiamo facendo le persone veramente quando perdono tutto su questa terra ma guardate dopo terremoto anche questi giorni è una bellissima iniziativa anche a Matrice dove era terremoto qualche comunità qualche comunità ha voluto subito proprio sulle macerie proprio di terremoto su tutto distrutto l'hanno trovato il luogo dove potevano mettere Santissimo e adorare Gesù dicendo è l'unica speranza anche quando noi non abbiamo niente nulla l'unica speranza è Cristo questa cosa oggi la voglio parlare per questo voglio ancora ricordarvi di questo momento molto diciamo importante che noi dobbiamo in questo anno di misericordia pensare importante vivere ancora più vicino a Cristo importante a legare con Cristo la nostra vita ancora di più per non perdere per per amare di più per dare proprio questa testimonianza dell'amore di più ho voluto come l'avete visto stamattina sono stato nella chiesa di San Domenico a Siena davanti la reliquia di Santa Catarina Santa Catarina che nasce nel 1347 e muore nel 1380 ma Santa Catarina scriveva tante lettere ai papi ai re a tanti convertitevi tante volte con un coraggio quante volte dicendo questa è la via che il Signore ci sta indicando via dell'amore è proprio questa era cosa molto importante far capire il messaggio di Santa Catarina quando diceva c'è combattimento il demonio a Santa Catarina combatteva tante volte la buttava sul fuoco tante volte la buttava e diceva io ti uccido ma non riuscì a fare nulla ma Santa Catarina diceva sempre pregate per i sacerdoti perché ogni prete è Cristo bella questa frase bella espressione e per questo vi invito a questa preghiera preghiamo per i sacerdoti tutti quanti ma aggiungendo qualcosa per la catechesi quella che settimana scorsa dicevo volevo dire che voi sapete anche nell'occulto ci sono questi forti momenti che noi non riusciamo tante volte a capire le persone possedute anche che l'ho incontrato avevano anche modo diciamo di ricevere l'eucaristia ma io mi domandavo come mai vedete anche questo permesso ma erano veramente persone possedute e poi anche sono questi seguaci tante volte che portano gli oggetti che sono stati usati sull'occulto per quello stiamo molto attenti cari fratelli e sorelle di cosa prendiamo cosa riceviamo per l'esempio rosari medaliette anche immagini dobbiamo sapere se questo oggetto è stato benedetto se no cerchiamo sacerdote che ci benedice a queste cose la cosa molto importante perché se non sappiamo providenza chiediamo qualche sacerdote che vedete di benedire di nuovo perché anche durante proprio i riti diciamo questi che le sette sataniche usano anche questo per strumentalizzare l'uomo e la persona io mi ricordo quando sono stato veramente scioccato una volta a una a una casa quanto mi hanno detto il mio suo marito la moglie diceva è posseduto mi picchia mi fa cose malissime ma dall'inizio del matrimonio e sono schiava perché ho portato a casa una specie di testa di legno messa proprio dentro un bicchiere di vetro e quella testa di legno sembra un demonio piccolina con i cappelli che lei dice dopo il nostro matrimonio anni lo vedo che questi cappelli sono cresciuti ma il mio marito mi ha detto questa è la mia forza viene da lì e mi picchia e mi fa male quando io benedicevo lì a casa mi ricordo molto bene quando sono uscito fuori che quel suo marito lavorava lontano da casa in quel momento chiamato dicendo chi era a casa vedete il demonio già lì diceva ma la moglie dice non c'era nessuno ma lui dice sono sicuro che era qualcuno e le vedi e disse ho paura reagire perché lui mi dice che mi distruggerà il demonio che mi distruggerà se tu vai contro di me e noi dobbiamo tanto pregare anche per questa gente come schiavi vivono per quelli che hanno questi problemi certamente io ritornerò su queste cose ancora a parlare ma vi ringrazio e veramente chiedo a tutti voi a preghiera per Santo Padre che proprio di questi giorni giorno 20 proprio giorno prossima settimana si unirà a Assisi pregando per la pace preghiamo per la pace e pregate anche per me che alla fine di settimana prossima devo partire a predicare anche in Belgio a Luxemburgo certamente saremo uniti ma sempre vi porto nel cuore grazie tutti voi che mi l'avete seguito oggi in questa catechesi certo guardando sempre a San Charbel dicendo San Charbel prega per noi donaci San Charbel la forza e l'amore vieni e Santa Catarina di Siena e tutti i Santi venite a aiutarci Dio che vi benedica vi aspetto sabato prossimo e benedico tutte le case di preghiera tutti voi quelli che siete uniti e quelli che volete anche venire e stare nella nostra comunione insieme Dio vi benedica preghiamo per il Papa Francesco per il suo ministero per il Papa Benedetto XVI e merito per i nostri vescovi sacerdoti vi benedica Dio Padre Ipotente Padre e Figlio e Spirito Santo Amen sia lodato Gesù Cristo grazie a tutti per i nostri